Ben trovati, la presentazione ufficiale della candidata del Partito Democratico alle primarie per individuare il candidato sindaco nella città di Lecce, ieri ha avuto l'evoluzione maggiore, Loredana Capone ha incontrato centinaia e centinaia di cittadini e simpatizzanti, ma non ha potuto vedere in platea i parlamentari della sua parte politica, per cui credo sia rimasta dispiaciuta, perché questi signori invece di ascoltare le tesi programmatiche e questo momento di confronto che ha voluto Loredana Capone, che anche ella forse si sta distraendo troppo dal governo della Regione Puglia e abbiamo un Presidente già impegnatissimo a livello nazionale, una Vice Presidente impegnatissima per le primarie con la speranza di andare alle secondarie per la poltrona di primo cittadino e la Regione Puglia probabilmente governata da una giunta rappresentata da sette che non rappresentano i cittadini perché non sono stati eletti, ma ritorniamo a Lecce, per quale motivo i deputati e senatori del PD hanno eluso questo incontro? Contro Loredana Capone assolutamente no, hanno sbagliato l'agenda o gli uni o gli altri perché ieri era presente sul nostro territorio l'ex Ministro Livia Turco e hanno preferito la loro collega anziché la candidata alle primarie. È bello l'entusiasmo che ho letto negli occhi e nelle parole di Loredana Capone, un entusiasmo forse acuito anche da un suo risentimento perché nelle scorse elezioni primarie perse per colpa dello sgambetto fatto dal Partito Democratico in quanto lei era la candidata della Margherita, anzi per meglio dire da parte dei democratici di sinistra perché il PD non esisteva, per cui lei perse le primarie. Oggi forse vuole rivalersi e quindi fa anche un passo indietro lasciando il potere importante della Regione Puglia per cercare di diventare primo cittadino di Lecce, ma sempre probabilmente con il salvataggio che qualora non dovesse andar bene andrà certamente nel 2013 a Roma. Cosa ha detto però che a me sinceramente non è piaciuto e che poi non è la nuova e la bella politica? Ha esordito dicendo dobbiamo purificare l'area inquinata da Berlusconi e basta con questo Berlusconi, ha fatto un passo indietro, non è più Presidente del Consiglio, sta pagando le conseguenze dei suoi errori e comunque qualcun altro sarà contento per ciò che in ogni caso ha fatto in questo Paese, ma ricordate che Berlusconi è esistito in Italia per gli errori e le colpe del centro-sinistra nei primi anni 90, ossia intorno al 92-94, altrimenti non vi sarebbe stata questa anomalia così popolare e forte, così come invece poi è avvenuto per Silvio Berlusconi. Loredana Capone dice io contro le lobby, ora ci deve spiegare, perché se contro le lobby dovrebbe essere anche contro la voglia del PD di avallare e di osannare Mario Monti, non può essere contro le lobby locali e in favore delle lobby nazionali ed internazionali, altrimenti è pura demagogia presa in giro del suo elettorato. E poi quali sono queste lobby nel Salento? Ci sono realmente? Ammesso che Bari e Lecce come centro-sinistra sia così estraneo e lontano, a Bari non credo che sia così lontani dalle lobby di potere economico che governano la Regione e il Salento. E come mai a Lecce vi sarebbero questi gruppi di potere? Come mai la Vice Presidente dice io sono contro? Perché contro? Contro chi? Queste lobby con chi stanno? Allora la politica diversa e nuova è fare nomi e cognomi dei poteri forti e nomi e cognomi di coloro che sino ad oggi avrebbero flertato con questi poteri forti a discapito di noi cittadini, altrimenti è la solita vecchia politica, è la solita politica delle chiacchiere e noi cittadini siamo sinceramente stanchi. Bello il confronto con Carlo? Beh sì, certo, è sempre bello, anche perché nello statuto del Partito Democratico si parla delle primarie a prescindere, ma poi ci sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 partiti democratici, lì dove si dice il confronto democratico delle primarie e lì dove si dice, vediamo, brindisi, a noi non interessano le primarie, i partiti possono scegliere, l'importante è che abbiano la capacità di scegliere uomini nuovi e lo dicono i democratici di brindisi, anche avallando la giusta richiesta dell'immagine nuova e diversa, qualora dovesse essere espressione del PD, che ha fatto il Presidente ferrarese, questo è il dato, ma passiamo al centrodestra e a questa finzione, questo gioco dei ruoli da parte anche del PDL che cerca il confronto con Io Sud e con Adriana Polibortone, però dice se accetta le nostre regole, un po' discutibile come posizione, anche se in queste ultime ore sto vedendo che il popolo delle libertà sta cercando di creare dei contanti con il Terzo Polo, con la Federazione Alleanza per il Salento e per Lecce e con la stessa Adriana Polibortone, ma che non sia una finzione, abbandonate l'autosufficienza, non c'è più neanche il potere nazionale come dire che vi può trasportare eventualmente alla vittoria, voi potete sì vincere, però dovreste essere un po' con i piedi, un po' di più con i piedi sulla terra. E dall'altra parte la senatrice Polibortone che dice voglio la discontinuità con Perrone e non si preoccupa invece di creare la continuità con le stesse, perché dopo dieci anni che ha fatto il Sindaco, perché vuole essere nuovamente candidata per fare il quindicesimo anno? Mi sembra un po' esagerato, può essere anche quell'anima nobile del Salento che non si preoccupa certamente delle inchieste giudiziarie e che vuole ricreare un clima differente con il centrodestra, ma se si è lanciata alle primarie perché vuole dialogare col popolo delle libertà, che andasse a parlare e dicesse quando si svolgeranno le primarie nel Salento e quali sono le regole, altrimenti poi non può rilasciare altre dichiarazioni dicendo ma se io dovessi essere la candidata del terzo polo perché no? Allora lei si lancia nelle primarie perché ha paura che l'Udc veramente voglia rompere una continuità politica individuando magari un soggetto della società civile che non è nato nei partiti politici e che poi avallerebbe anche quel 60% dei cittadini leccesi che in un sondaggio ha detto sì al prossimo sindaco della società civile. Ecco, lo dico a tutte le parti politiche, spogliatevi da questa ipocrisia, diteci la verità perché la trasparenza potrebbe pagare a voi elettoralmente e a noi come garanzia di fiducia verso un ceto politico che ogni giorno ci lascia l'amaro in bocca. Buona domenica.